Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale, io sono Anita e come sempre questo è Curiosando Lanzarote. Buona domenica sera a tutti e ben ritrovati sul nostro canale. Io, prima di lasciarvi in compagnia delle immagini che arrivano direttamente da qui dove sono adesso, da Costa Teghise, vi voglio dire una cosa molto importante, una notizia che è uscita proprio qualche giorno fa nel bellissimo Jameos de l'Agua, chiunque non sia mai stato qui, segnatevelo perché ne vale la pena veramente visitarlo, alcuni turisti, si parla di persone di origini francesi, abbiano deciso di fare un bel bagno nelle acque del Jameos dove all'interno di queste acque vive una rarissima specie di granchio albino. Mi raccomando, se venite qui a Lanzarote e visitate Jameos de l'Agua, ricordatevi che è assolutamente vietato fare il bagno. Una notizia che ha lasciato tutti un po' così a bocca aperta perché siamo rimasti tutti un po' sconvolti e scioccati da questa cosa. Mi raccomando, salvaguardate tutto, 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 non solo qui a Lanzarote ma in tutte le parti del mondo. Detto questo, io vi lascio subito in compagnia del video e niente, ci vediamo più tardi così vi do qualche altra notizia riguardante Lanzarote. A più tardi! 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 bene amici eccomi tornata qui con voi allora come avete visto ancora una bella giornata qui a lanzarote sono previsti altre tanti giorni di sole ci sarà un po di vento per quelli che arriveranno ma qui a lanzarote purtroppo o per fortuna c'è sempre un po di vento dico per fortuna perché se non ci fosse il vento le temperature sarebbero veramente veramente altissime quindi io posso solo dirvi per fortuna che c'è il vento detto questo ragazzi io voglio dare voglio rassicurare tutte le persone che hanno in idea in mente programmato di venire qui a lanzarote che io vi ho dato un aggiornamento qualche giorno fa per quanto riguarda i livelli però la situazione qui è assolutamente tranquilla non c'è nessun problema per quanto riguarda il covid chiaramente io ricordo sempre e do un consiglio più che ricordo e per una questione di proprio di sicurità sicurezza propria magari nei locali al chiuso nei supermercati indossate la mascherina così siete più tranquilli e però qui è tutto assolutamente nella normalità detto questo ragazzi io vi auguro una buona domenica sera e vi do appuntamento a martedì per un nuovo video sempre qui su curiosando lanzarote un bacione a tutti buona serata